Storie di intercultura per bambini. Favole dal mondo per conoscere e riconoscersi. Prima storia. Il re della foresta. Questa è una storia di leoni. C'era Ben, un animale molto orgoglioso di essere un leone. Abbandonato fin da piccolo dai genitori, fuggiti per non cadere nelle mani dei bracconieri, Ben era vissuto col mito del coraggio e della forza, ma soprattutto alimentando l'odio verso la paura, di qualsiasi forma fosse stata. Ben non sopportava i leoni fifoni e in modo esagerato biasimava chiunque non affrontasse a viso aperto e da solo il gigantesco elefante. Non era un vero leone che scappasse innanzi al grande nemico e mistero, il fuoco. Non di meno, più di ogni altra cosa, non era degno di camminare al suo fianco, chi non andasse incontro la vita senza compiere almeno un quotidiano balzo nel vuoto. Un giorno, senza saltare occhi chiusi, non merita di essere vissuto. Questo era il suo motto. Da tutto ciò potrete capire quanto Ben trovasse difficile aprirsi col suo branco, più che mai per un grande segreto. Non era proprio vero che non avesse paura di niente. Ben aveva una fifa matta del tramonto. Oh, allorché il giorno e la notte si scambino il 5. Ma questa è un'altra storia. Contro il tramonto non servivano zanne e artigli. Era inutile lanciarsi sfrecciante nella savana o nascondersi tra le rocce, come durante la caccia alla gazzella a zoppa, detta «Ti piace mordere facile, eh?». Il buio arrivava sempre, ogni giorno, senza preavviso, e questo spaventava tremendamente Ben. L'unico leone che Ben considerasse degno di stima era Ali. Ai suoi occhi costui sembrava non avere sul serio paura di niente. Pareva che non riflettesse mai su alcunché e che facesse tutto ciò che gli passava per la testa, senza preoccuparsi mai delle conseguenze. Quando era con lui, Ben si sentiva sicuro, anche al tramonto. Un giorno, con una luna enorme che faceva capolino nel cielo, Ali condusse l'amico a fare un giro nella foresta, vantandosi di esserne il solo e unico padrone. «Ben, ho una grande notizia!», esclamò. «Da stanotte sarò il re della foresta, altro che Tarzan!». «Ma cosa dici?», salto su Ben. «Non esistono per davvero i re. Quelle sono cose che raccontano gli uomini o gli scrittori. Noi abbiamo solo un capobranco, il vecchio Imat. E lui dice sempre che è la foresta di tutti gli animali che la rispettino. Non lo capisci, ribatte l'altro. Noi siamo leoni, siamo nati per regnare su tutto. E io, che non ho paura di nulla, sono stato scelto dalla luna per essere il nuovo re. Tutti gli animali mi temono, tutti scappano quando arrivo io. Perfino le zanzare se la danno a gambe, anzi ad Ali. Chi non conosce paura è fatto per comandare. E chi ne ha deve obbedire». Ben era impressionato dall'amico e lo fissava ammirato, vedendolo trionfante innanzi a lui, nel cuore della macchia e avvolto nell'oscurità, mentre affermava con orgoglio il proprio coraggio. Forse Ali aveva ragione. Forse i leoni avevano il diritto di comandare su tutti. E chi, se non quello più coraggioso che conoscesse, sarebbe stato il più accreditato. Proprio in quell'istante Ben percepì un rumore dietro un cespuglio, alle spalle di Ali. Un lieve fruscio, appena percettibile ma comunque udito da entrambi. «Per il becco dell'upupa!» urlò a squarciagola Ali. «Cosa c'è là?» per poi rifugiarsi tremante alle spalle dell'incredito Ben, il quale comunque impaurito era rimasto immobile. L'attesa non fu lunga e dal cespuglio affiorò una minuscola puzzola, seguita dai suoi tre cuccioli. Non appena vide i due leoni, la mamma puzzola si mise in guardia e fissò i suoi occhi nei loro con spavalderia, finché la prole non scomparve in un altro cespuglio. A quel punto la puzzola fece loro una sorta di sberleffo e corse dietro i piccoli. Ci fu un attimo di silenzio e poi Ben iniziò a ridere a crepapelle sotto gli occhi imbarazzati dell'amico. «Io lo so chi era quella!» osservò trattenendo a stento le risa. «Chi?» domandò l'altro. «La regina della foresta!» Seconda storia. La nave di Hassan C'era una volta una bottiglia, una vecchia bottiglia. Nella bottiglia c'era dell'acqua. Sull'acqua galleggiava, o per meglio dire ormeggiava, un antico veliero. Un finto veliero. Ciononostante, per un'assurda alchimia, quella nave aveva un equipaggio. Si trattava del capitano Hassan e della sua ciurma, un pugno di uomini che avrebbero seguito il proprio comandante in qualsiasi avventura e in ogni parte del mondo. Non si era mai vista tanta fedeltà fuori di quella bottiglia. Tuttavia, la sorte voleva che il capitano, al contrario dei suoi uomini, sapesse della nave Fasulla e che di lì non si sarebbero mai mossi. Non di meno, un po' per non distruggere le illusioni dei marinai, e un po' per paura di perdere il ruolo di carismatico capitano, raccontava loro bugie a non finire. Prima di tutto, essendo l'unico a conoscere le carte e a saper usare gli strumenti di bordo, li aveva convinti di essere capitati in una tremenda bonaccia, la quale impediva assolutamente la nave di muoversi, e che un rarissimo tipo di banco di nebbia, detto il grande vetro, avesse avvolto il beliero. Inoltre, per passare il tempo, ogni sera Hassan raccontava agli uomini delle sue presunte avventure tra i cosiddetti sette mari. Principesse bellissime, maghi terribili, isole incantate e geni della lampada popolavano cupiosi le sue imprese, puro frutto della sua fantasia. Tuttavia, dopo anni, il nostro cominciò a provare vergogna del suo inganno, poiché i marinai non mancavano mai di mostrargli la loro stima e ammirazione, nonché affetto profondo. La vergogna mutò in vera sofferenza, allorché si accorse di aver reso ancora più falsa la realtà di quanto non lo fosse già. Una sera toccò il classico fondo, quando, uscito dalla sua cabina, trovò la nave tutta ghindata a festa. L'equipaggio aveva organizzato a sua insaputa una sorpresa per il suo compleanno e aveva preparato una torta enorme con su scritto al nostro capitano, un secondo padre, con tanto di punto esclamativo. Tutto questo fu troppo per Hassan, il quale, senza accorgersene, cominciò a piangere a dirotto e col capochino parlò loro come non aveva mai fatto prima. Ragazzi, ragazzi io vi ho imbrogliato, vi ho tradito, sono un bugiardo, sono anni che non faccio altro che mentirvi. È tutto falso, non sono il grande capitano che avete creduto, non sono mai stato nei posti di cui vi ho parlato, non ho mai compiuto le imprese di cui vi ho detto. Niente è vero, ma la bugia più grande riguarda questa nave, questo veliero è finto, non c'è alcuna bonaccia o nebbia, credetemi, non ci siamo mai mossi dall'interno di una bottiglia di vetro. Hassan rimase in silenzio e poi alzò lentamente la testa notando con grande sorpresa le facce sorridenti e allegri dei suoi uomini. Quindi uno di essi gli si fece incontro e gli parlò a nome di tutti. Capitano, noi questo l'abbiamo sempre saputo, fin dall'inizio. Sapevamo anche che nulla era vero delle sue avventure, ma lei oggi ha detto una bugia di troppo. Lei sbaglia a sostenere che non ci siamo mai mossi di qui, perché è stato proprio lei, con i suoi racconti, a farci viaggiare, lì dove ne nessuna nave avrebbe mai potuto portarci. Grazie, capitano, dei sogni che ci ha donato. Tutto l'equipaggio abbracciò attorno Hassan, il quale quella sera sentì di essere l'uomo più felice del mondo, dentro e al di fuori della bottiglia. Terza storia. Le sei corde. La storia che sto per raccontarvi parla di una chitarra molto particolare. Infatti, mentre ogni strumento musicale si accende nelle mani di chi, con anima e passione, cerchi di staccarsi da terra come solo un essere umano potrebbe, questa chitarra era viva da sola, o meglio, lo erano le sue corde. Le sue sei corde. A partire dal basso dello strumento, e quindi dalla voce più acuta, c'era il piccolo Misbah, a seguire il suo fratello maggiore Siraji, di seguito i fratelli Solmir e la sorella Reda, e infine i genitori, la Beb e Mindur. Insieme avrebbero creato un'armonia incredibile e avrebbero incantato le orecchie e soprattutto i cuori di chiunque li avesse ascoltati suonare le loro magiche note. Tuttavia, per farciò era necessario che ognuno lavorasse per l'altro, che ci fosse piena fiducia e collaborazione tra loro, che fossero sempre giustamente affiatati, potremmo dire accordati. Ciò nonostante, Solmir mostrava notevole difficoltà ad armonizzarsi con gli altri. Aveva un grande bisogno di essere apprezzato per la sua voce, non in coro con gli altri, ma da solo, come unico interprete della sua anima. Fin qui, nulla di male, i personali virtuosismi erano più che incoraggiati dai genitori. Non di meno, ogni volta che la chitarra veniva chiamata per un provino, papà Mindur e mamma la Beb si raccontavano con lui di seguire gli spartiti e di non prendere iniziative personali. Solmir prometteva di essere diligente, ma puntualmente, durante l'esecuzione, emetteva suoni in completa disarmonia rispetto a tutti gli altri. Una sera, dopo l'ennesima figuraccia in un concerto al conservatorio, Misbah e Reda si scagliarono i rate contro Solmir, mentre Siragi voleva passare addirittura le vie di fatto. Mamma la Beb non sapeva più come gestire il figlio, che nel frattempo ascoltava in silenzio, sentendosi sempre più incompreso. Reda disse quindi con rabbia. Propongo di mandarlo via, di prendere un altro al suo posto. Non riusciremo mai a farci assumere con Solmir insieme a noi. Sembrava quasi per tutti la soluzione migliore quando papà Mindur osservò. Non esiste qualcuno che possa sostituirlo. Egli è parte di noi come noi di lui. Siamo stati fatti per danzare insieme. Vostro fratello è la corda giusta al posto giusto. Chiunque altro romperebbe la nostra magia. Solmir, dico a te, se non vuoi cantare con noi, per noi non avrà più senso farlo. In silenzio Mindur si staccò dalla chitarra, seguito da tutti gli altri per cambiare vita e dimenticare per sempre la musica. Solmir si ritrovò quindi a cercare di farsi ascoltare da solo dal mondo. Tuttavia la sua voce era troppo debole per essere udita e rimpianse amaramente i suoi compagni. E se di notte vi affacciate alla finestra, talvolta vi sembrerà di sentire il fragile suono di una corda perdersi nel vento. È il canto di chi ama solo la propria voce. Quarta storia. Le due gocce. Questo racconto è di molto tempo fa e quando dico molto tempo mi riferisco a molto, moltissimo tempo. Pensate che l'uomo ancora non c'era al mondo e così tutti gli animali. Figuriamoci l'uomo ragno, Harry Potter, Cristiano Ronaldo e la Playstation. Non c'era neppure il gabinetto, immaginatevi un po' quanto fosse scomodo. Va bene, ormai è chiaro, torniamo al punto. C'era ovviamente la terra, il mare, il sole, la luna e anche le nuvole. Già, le nuvole. Tra di esse c'era una piccolina che calcava i primi passi nel cielo. La nuvola, a sua volta, era fatta di tante minuscole gocce, anche se alla prima esperienza. Fra di loro venera una che spiccava tra le altre perché aveva sempre il sorriso stampato sul viso. Il suo nome era Babukar ed era una gozzolina ricolma di contentezza di essere lì con le altre. Amava immensamente sentirsi parte della nuvola, viaggiare con dolcezza nel cielo collata dal vento, osservare le bellezze del mondo non ancora attaccate dall'uomo. Era felice, insomma, poiché amava ciò che era. Non tutte le gozzoline però la pensavano come lui, come in ogni nuvola. Vi erano le gocce invidiose, che non facevano altro che guardare le nuvole vicine, le quali risultavano sempre più belle della loro. C'erano le gocce asociali, ognuna delle quali voleva fare nuvola a sé. C'erano quelle presuntuose, convinte di essere loro a far viaggiare la piccola nuvola, anziché il vento, pensate un po' l'ardire di costoro. Ma soprattutto c'erano le gocce pessimiste, che vedevano temporali dappertutto. Una di queste si chiamava Asani ed era vicino di Babukar. Era piuttosto infastidito della sua gioiosità e un giorno gli chiese. Ma si può sapere perché hai sempre quel sorriso sulle labbra? Ma cosa c'è di così divertente? E' bello stare qui, rispose l'altro, sospeso nel cielo, fermo tra il sole e la terra. Tanto non durerà, osservò Asani malinconicamente. Presto o tardi scoppierà un temporale, cadremo giù tutti e ci perderemo per sempre. Babukar era molto impressionato dalle parole del compagno e mostrando notevole ingenuità gli chiese. Ma cos'è un temporale? Asani, stupito dall'ignoranza dell'altro, così rispose. Non sai cos'è un temporale? E' quando il vento diventa così crudele e violento da aggredire le nuvole fino a frantumarle goccia dopo goccia. E' la fine di tutto. Babukar, preso dal panico, esclamò. No, no, la nostra nuvola non lo permetterà. Lei ci vuole bene, ci proteggerà. Tuttavia Asani gli disse con amarezza nella voce. Ma non hai ancora capito? Non c'è alcuna nuvola. Essa è fatta da tutte noi goccioline messe insieme. Noi siamo la nuvola. Babukar si sentì morire dentro e non riusciva più a parlare. Aveva sempre visto la propria esistenza come qualcosa di celestiale, senza dolore e difficoltà. Un eterno gioco. Ed era dura affrontare la realtà. Se mi lasciate passare il banale gioco di parole, si può dire che fino a quel momento avesse sempre vissuto con la testa fra le nuvole. Addolorato, cominciò a piangere, cosa che non aveva mai fatto prima. E dai suoi occhi uscirono delle lacrime. O meglio, delle gocce. Le vide cadere giù sulla terra. Le guardò scivolare in un fiume. Osservò il fiume portarle con sé nel mare. E dal mare le vide sollevarsi fino al cielo per diventare nuvole. Fu allora che capì che il prezzo della vera felicità sarebbe stato riuscire ad accettare tutto. Tutto quello che la vita gli avrebbe dato. Quinta storia. L'anima viva. Dovete sapere che un'antica leggenda orientale afferma che esiste un luogo nel cielo dove si trovano tutte le anime prima di arrivare sulla terra e reincarnarsi come uomini, donne o qualsiasi altra creatura. Proprio in quel fantastico posto c'era un'anima che stava per iniziare tutte le pratiche amministrative e burocratiche per intraprendere il suo primo viaggio. Dopo aver compilato tutti i moduli necessari, dopo aver fatto tutte le file agli sportelli preposti con molta serenità, lì non esiste il tempo e quindi neanche la fretta, stava per espletare l'ultima pratica. Quest'ultima consisteva nell'assegnazione del corpo con tutti gli annessi e connessi. Questa fase era molto elaborata poiché l'archivio centrale avrebbe dovuto garantire che ciascuna assegnazione risultasse unica e originale rispetto a tutta la vita nata in precedenza e che il suo arrivo sulla terra fosse sincronizzato con l'orologio biologico di tutta la natura. Non di meno, quel giorno, quell'anima si rifiutò di accettare l'assegnazione. Questo fatto fu sconvolgente per gli uffici dirigenziali poiché mise in fase di stallo tutti gli ingranaggi. Per di più scoppiò una rivolta di tutte le altre anime, ansiose di partire e costrette ad aspettare, le quali organizzarono manifestazioni con occupazioni e proteste. Il direttore generale dell'archivio centrale, dopo essersi riunito con i propri collaboratori, andò di persona dall'anima in questione per esaminare direttamente il suo caso. Dopo alcune ricerche trovò l'anima seduta in un bosco, all'ombra di un albero. Le si avvicinò e, tossendo, come per darsi un contegno, esclamò. «Ah, sei qui?» L'anima non rispose. «Come ti senti?» Le chiese con perseveranza. «Chi sei?» replicò l'anima senza guardarlo. «Sono il capo dell'archivio centrale. Si può sapere perché hai rifiutato il corpo che ti è stato assegnato. Ho qui con me la pratica. Si tratta di una bimba assai graziosa e sveglia d'intelletto, che diventerà una donna altrettanto bella in salute ma soprattutto molto intelligente. Leggo paese occidentale, famiglia benestante, quartiere elegante e scuole privilegiate. E cosa c'è che non va? Lo sai che avrebbe potuto capitarti molto di peggio?» L'anima si alzò in piedi e, fissando gli occhi, il direttore gli disse «Ma perché dovete scegliere voi il mio corpo? Sarà ciò con cui nascerò, piangerò e riderò. Sarà quello che mi farà viaggiare, amare, soffrire, che mi farà morire. La vita è una, non dovrei sceglierlo io». Il direttore fu molto colpito e per poco non svenne dall'emozione. «Era tempo che non me ne capitasse una», pensò ad alta voce. «Prego?» «Niente. Avrai ciò che desideri. Tu deciderai da sola. Perché? Perché tu non hai bisogno di reincarnarti. Tu sei già viva». Sesta storia. Il ladro di palloncini. In un tempo lontano, su un'isola sconosciuta situata secondo alcuni nel mare di Sulu, si era insediata ed evoluta miracolosamente una comunità di palloncini. A causa di tremende correnti marine, era praticamente impossibile raggiungere la costa. Ecco perché il resto del pianeta ignorava tale meraviglia della natura. Vi erano palloncini di tutte le forme e sagome immaginabili. Nella fattispecie vennerà uno di nome Samar, piuttosto rotondo, un classico palloncino da fiera. Samar era un tipo molto sensibile e in verità non è che amasse le proprie fattezze, ignaro di quanto ciò fosse rilevante per i bambini di tutto il mondo. Inoltre, come tutti i suoi compagni, viveva legato a una cordicella e all'estremità di quest'ultima vi era un sasso, per non volare via, nel cielo, nelle mani del ladro. Già, perché come a tutti, anche al piccolo Samar era stata raccontata la leggenda del ladro di palloncini. Secondo la storia, se per sfortuna si fosse sciolta la cordicella e sfilata la pietra, il palloncino si sarebbe alzato in volo. e una volta sopra le nuvole, invisibile da terra, sarebbe stato rapito da una creatura terrificante, la quale viaggiava su una nave leggera come una piuma e veloce come un fulmine. Tuttavia, il vero terrore nasceva dal fatto che quest'essere, con estrema crudeltà, una volta catturata la propria vittima, le avrebbe rubato tutta l'aria all'interno. Samar, come tutti i suoi simili, viveva giorno e notte con questa paura nel cuore. Un pomeriggio come tanti, si alzò un vento spaventoso che sorprese il piccolo palloncino sulla spiaggia dell'isola, senza alcun appiglio, e sotto gli occhi di tutti i suoi concittadini si sciolse la sua cordicella. Samar si librò in alto, senza potersi opporre all'ormai segnato destino. Potete immaginare a che ritmi battesse il suo cuore e quanto panico lo avvolse quando ormai lontano chilometri dal suolo vide sbucare tra due nuvole la leggendaria nave. Quest'ultima si avvicinò in un attimo e un bambino dall'espressione divertita catturò Samar con una rete. Il fanciullo tirò fuori il palloncino con cura e legò l'estremità della cordicella alla nave, mentre Samar, tremando come la classica foglia, non osava aprire gli occhi. «Calmati, va tutto bene, credimi!» fece il bambino. Samar sollevò le palpebre lentamente e fu enorme la sorpresa quando, invece della mostruosa fiera che da sempre popolava i suoi sogni, vide il ragazzino che sorrideva bonariamente. Ciò nonostante, con ancora un po' di tremore, esclamò con tono supplichevole «Ti prego, ti prego, non rubarmi l'aria, farò qualsiasi cosa!» il bambino rispose. «Non temere, non te la ruberò, non potrei neanche se lo volessi, nessuno può, poiché quell'aria sei tu. Io non capirò mai perché vi ostignate a legarvi a terra con quelle stupide pietre, quando in qualsiasi momento potreste sollevarvi e abbracciare il sole. La paura imprigiona la vostra libertà dentro di voi». Samar rimase senza parole e il fanciullo, con delicatezza, sciolse la corda, aprì il palloncino e l'aria fuorici per essere finalmente libera. Per sempre. Settima storia. Le due caramelle. C'era una volta a Bucharest un negozio di dolci, pieno di ogni delizia. Vi erano paste di qualsiasi tipo e gusto, panna, crema, cioccolato e così via. Il loro profumo riempiva il negozio e ci si poteva saziare semplicemente annusando. Era il paradiso per ciascun bambino, e non solo. Gli affari andavano molto bene per l'anziana proprietaria, che poi era la vera creatrice di tutte le gustose meraviglie. Era un'arte per lei, anzi di più, era vero e proprio amore preparare i suoi dolci, e tutti si congratulavano. Tuttavia, insieme alle altre prelibatezze, in vetrina vi era una boccia di vetro, in cui erano rimaste solo due caramelle, una alla menta e l'altra all'arancia. Si chiamavano Kalin e Nicolai, e tra loro non correva buon sangue, anzi buon succo. Kalin, in tutta sincerità, non sopportava proprio di essere una caramella. Fin da piccolo sognava di essere una pasta con la crema, al cioccolato e perfino priva di ripieno. In ragione di ciò, provava molto rancore per la vecchia padrona e notevole antipatia per Nicolai. Questi, al contrario, era fiero della sua condizione. Nicolai era un orgoglioso di natura. In ogni caso viveva con il pensiero che ci fosse un motivo, un buon motivo, se era nato caramella. Così, ogni volta che qualcuno avvicinava lo sguardo alla boccia, Kalin faceva le boccacce al cliente, lo insultava, insomma faceva di tutto per fargli passare la voglia. Tutto a scapito del compagno, che ormai si stava rassegnando a finire i propri giorni nel freddo contenitore. Una notte Nicolai decise di parlare a cuore aperto al compagno di vetrina. Kalin, svegliati! Cosa vuoi? rispose bruscamente l'altro, un attimo prima immerso nel sonno. Ma perché ti comporti così? Qual è il tuo problema? E a te cosa importa? Pensa ai fatti tuoi! Nicolai continuò, senza perdersi d'animo. È inutile che tratti male anche me. Non ci resta molto tempo ormai. Fra poco andremo a male e la signora ci butterà via. E cosa vuoi che me ne importi? Così la faccio finita e non se ne parla più. Subito dopo Kalin sbottò a piangere, senza redersene conto. Nicolai gli si avvicinò e gli disse. Ma perché sei così triste? Kalin rispose con le lacrime negli occhi. Ma perché ci ha fatto due misere caramelle? Qui ci sono un sacco di paste, creme di tutti i tipi, torte di ogni forma e sapore. E noi? Due caramelle. Noi siamo lo scarto di questo negozio, ecco. Per la prima volta Nicolai comprese lo stato d'animo di Kalin, senza cercare di consolarlo, ma con molta franchezza gli disse. Sai, ti capisco. Fossimo stati una torta con la ricotta o una crostata di mele sarebbe stata un'altra cosa, non è vero? Già, ma abbiamo anche la fantasia. Cosa vuoi dire? Chiese Kalin con gli occhi ancora lucidi. Dico che niente e nessuno ci vieta di sognare di essere ciò che vogliamo. Ora io andrò a dormire e domani sarò un delizioso dolce con la panna. Buonanotte. Kalin rimase un attimo interdetto, ma poi rilanciò. Ah sì? Io sarò una torta con la crema. Una torta enorme. A domani. Le due caramelle si addormentarono dolcemente e Kalin riposò come non aveva mai fatto prima. Ma non solo. All'indomani i due si svegliarono così convinti dei loro sogni che credettero sul serio di essere un dolce e una torta, a tal punto da convincere un anziano e soprattutto molto goloso signore che comprò con gioia le due caramelle. Tuttavia, una volta in casa del vecchio, Kalin tornò a lamentarsi. Che bella idea! Ora ci mangerà e veremo consumati dai succhi gastrici di quel tipo. La fantasia, ricordi? disse Nicolae. Ora io immaginerò di essere un escremento di topo, così l'uomo non mi mangerà. Davvero? Allora io immaginerò di essere sputo di ragno, ecco. Pochi istanti e l'anziano signore si avvicinò alle caramelle e inorridito arrestò la mano a un soffio dai due. Che schifezza è questa? esclamò. Non andrò più in quel negozio. Così gettò le due caramelle nel cestino dell'immondizia. E se vi avvicinate a quest'ultimo ascolterete due amici gridare a squarciagola di gioia.